Yannick Sinner e Anna Kalinskaya non si nascondono più e, dopo Wimbledon, hanno deciso di partire insieme per la loro prima vacanza di coppia. I due tennisti sono in Sardegna e sono stati paparazzati da chi più felici e innamorati che mai. Lui, dopo la storia durata quattro anni con l'ex fidanzata storica Maria Braccini, ha ritrovato il sorriso con Anna e ha ufficializzato la relazione in una conferenza stampa ai Roland Garros, sì, sto con Anna, aveva dichiarato. Dopo settimane di rumors, dopo la conferma di lui al grande slam di Parigi e dopo numerosi indizi social e non, Yannick Sinner e Anna Kalinskaya non hanno più intenzione di nascondersi. Yannick Sinner ha conquistato tutti gli appassionati del tennis e non. Con le sue giocate, il suo carattere e i suoi atteggiamenti umili, nonostante sia uno dei giocatori migliori del mondo, ha fatto breccia nel cuore di tutti i tifosi che non vedono l'ora di vederlo alle Olimpiadi di Parigi. Sinner, qualche giorno fa, ha dichiarato, i medici mi hanno consigliato di riposare prima di partire. Il settimanale chi li ha paparazzati mentre fanno un bagno in mare, giocano con l'acqua e ridono insieme tra un tuffo e l'altro. I due tennisti sembrano essere una coppia come un'altra, l'unica differenza è che i tanti tifosi presenti in spiaggia hanno chiesto loro parecchi selfie e tutti sono stati accontentati. Ora, Sinner si gode il riposo dopo Wimbledon e, a breve, tornerà a pensare al campo e alla racchetta è in vista delle Olimpiadi di Parigi.